Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video che sinceramente pensavo a sto punto di non registrare perché sono... sono già due ore che sono in giro per questo bosco ma le condizioni non erano come mi aspettavo o meglio da come era previsto doveva esserci un po di nebbia un po di nuvole basse sono arrivato e c'era il sole in più non riuscivo a trovare una composizione mi trovo nella foresta della verna all'interno del parco delle foreste casentinesi e per me è una zona magnifica e ha degli scorci incredibili sono venuto tutti gli anni praticamente in autunno inizio autunno un po più tardi eccetera a cercare di fotografarla e sinceramente non ci sono mai riuscito a dovere ho fatto sì qualche scatto ma non ho ripreso gli angoli che mi piacciono di più semplicemente per due motivi uno per le condizioni non ho mai trovato nebbia che sarebbe fondamentale per questa tipologia di fotografia ma anche perché facevo fatica a trovare delle composizioni valide e che rappresentassero proprio questo ambiente in parte perché mancava magari le foglie sugli alberi oppure la vegetazione nel terreno non era abbastanza interessante e non creava un bel primo piano e anche oggi pensavo fosse come tutte le altre volte che sono venuto ma invece in questo piccolo angolo dove mi sono fermato a mangiare una crostatina perché avevo fame è incredibile ma in questo punto dove sono adesso se io mi giro a 360 gradi vi faccio vedere com'è l'ambiente intorno a me se la macchina mi segue e non so se riuscite a percepirlo non mi segue a fare tutto il giro è vero torno indietro non so se riuscite a vederli ma io ho trovato tre scatti e sono tre scatti che rappresentano proprio l'essenza di questo posto non so se vedete la macchina qui dietro di me ma ne sta già inquadrando uno adesso ve lo faccio vedere immediatamente come al solito devo mettermi in posizioni estremamente scomode sono ai piedi di questa roccia gigante ma ecco l'inquadratura che vi dicevo estremamente semplice ma pulita ordinata e che rappresenta proprio l'essenza di questo posto ma qual è l'essenza secondo me di questi luoghi tutte queste rocce qui principalmente infatti qui di dietro grosso modo dietro a questi alberi qua c'è una montagna dove si trova il santuario della verna e ha delle pareti che penso diversi secoli o millenni fa si sono staccati dei roccioni enormi tipo quello che c'è dietro di me ce ne sono di più piccoli di medi di grandi e di veramente enormi e questa cosa ha creato un ambiente molto molto particolare nel sottobosco da questo lato della montagna dove tutte le rocce sono ricoperte di muschio principalmente ma anche di edera di altra vegetazione e in alcuni casi io li ho sempre viste le ho sempre notate ma non sono mai riuscito a fotografarle come vi ho detto creano delle piccole scene magnifiche come spesso accade magari a vederle sono magnifiche anche solo a osservare o passeggiando lungo il sentiero ma per una goccia ma per fotografarle è un'altra cosa ma oggi in questo punto come detto sono riuscito a trovare una composizione se non tre che mi piace particolarmente parlando di roccioni qui ne abbiamo uno bello gigante e qui a destra adesso non ve la faccio vedere c'è un'altra composizione qui ce n'è uno più piccolo e come vedete sono tutti ben ricoperti di muschio e di vegetazione ma che cosa mi attirava di questa zona principalmente a parte che è un pochino aperta ma soprattutto quel alberello o quel ramo di quest'albero molto più grande che è cresciuto di lato separato dagli altri un po isolato vedete e ha iniziato a colorarsi per l'autunno e un'altra cosa le rocce fanno una bellissima parete che indirizza e questa una linea che indirizza proprio al mio alberello ho fatto già degli scatti adesso vi faccio vedere più o meno la composizione ma gli scatti come detto li ho già fatti perché le condizioni stanno cambiando rapidamente prima c'era il sole che illuminava adesso con questa macchina sembra illuminato ma non è così illuminato come prima illuminava l'alberello e creava proprio una bellissima atmosfera come vi dicevo qui sulla destra c'è questa bella roccia gigante che mi indirizza proprio verso l'albero e qui sulla sinistra ho posizionato che non si vede la base non si non riesco non riprendo la base ma l'ho presa un pochino più in alto perché sennò probabilmente sarebbe un po dispersivo ma così mi indirizza ancora di più verso l'albero e qui al centro c'è questo sentierino che non è da dove sono passato io sono passato di là c'è questo sentierino qui ricoperto di foglie che ce ne sono in parte nuove di quest'anno in parte vecchie dell'anno scorso crea un'ulteriore linea guida che porta proprio a quell'albero non mi sembra molto esposto bene spero che siate riusciti a vederla l'inquadratura in ogni caso grosso modo viene come questa macchina qui anche perché sono quasi a 24 mm e questa macchina qua è a 24 mm quindi grosso modo l'inquadratura verrà come state vedendo in questo momento chiaramente è composto un po meglio e da un pochino più in basso da dove è la macchina sto montando sto cadendo sto montando un polarizzatore che in questo caso fa una differenza enorme questa nebbiolina la luce del sole che passa sulle foglie che poi è tutto bagnato perché sta sgocciolando da da un bel po poi ha piovuto anche ieri e l'altro ieri è tutto bagnato e senza polarizzatore la differenza è abissale l'avete anche in parte visto con questa camera qui rispetto a come vedrete la foto finale la differenza ma giusto per contesto ve lo faccio vedere così è con la polarizzazione così è senza polarizzazione c'è un enorme differenza senza e con senza e con guardate senza quanti riflessi si creano qua sulle foglie su tutta la parte bagnata con cambia completamente in questo caso adesso lo scatto l'ho fatto con la polarizzazione al massimo però se arrivasse un pochino di nebbia probabilmente potrei ridurla non lasciandola al massimo per lasciare un pochino di riflessi dando un po più di nitidezza alle foglie e soprattutto nelle parti dove il sole si riflette in effetti un pochino di nebbia sta arrivando poca non esageriamo però sta migliorando decisamente vi faccio vedere questo scatto e poi passo alla prossima composizione ecco a tutti Grazie a tutti. Come vi dicevo non sono dovuto andare molto lontano per trovare quest'altra composizione. Infatti lì è dove ero prima a fotografare e adesso mi sono semplicemente spostato di 5-6 passi perché dalla roccia che c'era prima sulla destra, in questo caso è sulla sinistra, di quest'albero che è voluto crescere proprio in mezzo tra appunto questa roccia che è quella di prima, lì vedete l'alberello di prima e quest'altra che era dietro di me poco fa e secondo me crea una scena molto particolare. Chiaramente in questo caso a differenza di questo scatto qui che funzionava piuttosto bene anche senza particolare nebbia, in questo caso qui per dare un senso magico, dare un pochino di più sarebbe meglio che ci fosse la nebbia. Però chiaramente in questo caso non c'è. Lo scatto lo farò comunque perché la composizione è comunque interessante, so solo che dovrò tornare a fotografare quest'albero. Questo probabilmente con le foglie verdi primaverili sarebbe molto molto bello, chiaramente con la nebbia, ma se non la trovo in autunno figuriamoci in primavera. Vi faccio vedere la composizione. Ed ecco qui la composizione, chiaramente semplicissima, infatti gli elementi da includere sono veramente pochi. L'albero al centro, una roccia a sinistra e la roccia a destra. Tutti gli elementi di contorno che possono essere le altre piccole rocce qui a terra, la vegetazione e anche questi due tronchi danno un pochino di contesto e maggiore interesse. Sto utilizzando il grandangolo, sono circa a 18 mm perché mi piaceva dare questa sensazione delle rocce giganti con l'albero in mezzo, quindi dando un po' più di importanza alle rocce, rendendo così sia protagonista l'albero al centro ma far capire anche in che posizione si trova. Anche qui sto utilizzando il polarizzatore, adesso l'ho tolto. Scusate se non inquadro perfettamente ma sto facendo a mano perché qui l'altro trepiede non arriva a questa altezza. Così ho tolto il polarizzatore, così lo sto rimettendo. Un pochino sarà da giustare in post produzione per la saturazione dei colori perché il polarizzatore satura parecchio, restituisce fondamentalmente il colore più o meno che vediamo noi occhio nudo. che è, fidatevi, un bel verde acceso, il muschio in questo periodo dell'anno, soprattutto quando ci sono delle piogge frequenti. E adesso stanno iniziando, come stanno iniziando a colorarsi le foglie di un bel giallo acceso. In questo caso quest'albero non è colorato quasi per niente. Come vi ho detto considerate che questa scena sicuramente guadagnerebbe parecchio con un po' di nebbia. a direi che mi fermo a due fotografie in questo posto, non a tre. Ho fatto soltanto qualche scatto di prova ma è una composizione più complicata e senza le condizioni ideali non ne vale la pena. Mi sono segnato chiaramente il posto per tornarci in un'altra occasione. Adesso vado un po' avanti, esploro ancora un po', cambio zona. Non è detto che trovi qualcos'altro da fotografare per esperienza personale. Come detto è una foresta un po' difficile questa ma non si sa mai. Ed eccomi arrivato in un'altra zona per un'altra composizione. Ho esplorato per bene l'area, è passata circa un'ora e mezza dagli ultimi scatti e ho trovato delle zone veramente interessanti che però purtroppo come l'altra ma un po' di più sono difficilissime da fotografare senza nebbia. Con la nebbia creerebbe veramente un ambiente magnifico però mi devo adattare e ne ho trovata almeno una. Non so se ne ho trovato anche un'altra, devo ritornare a vederla tra un po'. Questa qui mi piace particolarmente anche se la preferirei con la nebbia ma mi piace così tanto che ho deciso comunque di fare una prova. In realtà ne ho fatte due di prove perché questa scena mi piaceva sia quadrata che in orizzontale ma non essendo deciso le ho fatte entrambe. Ho fatto anche lo scatto con la macchina già impostata in quadrato e poi ho fatto la stessa inquadratura in rettangolo per eventualmente correggere la composizione mentre adesso è impostata per un'inquadratura in rettangolo. Perché è vero che puoi estrapolare dall'inquadratura un quadrato ma non è detto che la composizione sia esattamente come la si vuole. Per questo ne ho fatte due separate. Vi faccio vedere l'ambiente. Guardate questo bellissimo alberello che è quello che mi aveva attirato completamente ricoperto di muschio con tutte le sue belle foglie bagnate che sarebbe anche piacevole fossero ingiallite dall'autunno ma in realtà sono piacevoli anche così verdi. E tutto intorno queste rocce giganti. Vi voglio anche far vedere un pochino com'è l'ambiente dietro a questo alberello che è piuttosto interessante perché non sembra ma cambia tantissimo. Guardate. Provate a immaginare un ambiente del genere con un po' di nebbia. Sarebbe veramente magnifico. Però non posso controllare il tempo. Vi faccio vedere intanto l'inquadratura che ho fatto. Ecco qua l'inquadratura che è semplicissima. Questa è la rettangolare. Poi vi farò vedere anche la foto quadrata se ne vale la pena. Ho voluto semplicemente posizionare l'alberello qui in alto a destra che si vedesse tutto fino proprio alle cime delle foglie. Faccio uno scatto che non è male adesso la luce anche se è praticamente assente ma può essere piacevole in questo caso. E sulla sinistra questa roccia che fa quasi una punta. Quindi si crea un bel movimento, si crea una bella scena nell'ambiente. Ma perché mi piaceva anche il rettangolare? Perché qui in alto a sinistra se vedete c'è questo alberello scusate. C'è quell'alberello lì che è direi simpatico. Ve lo faccio vedere anche dal di qua. Vedete è particolare, è molto dritto, molto movimentato. Insieme a quello alberello ce n'erano anche altri qui di dietro che con la luce erano particolarmente interessanti. Anche qui ho usato il polarizzatore che satura tantissimo. Infatti nell'inquadratura l'avete visto che è molto saturato. Probabilmente dovrò lavorare un pochino di post produzione. Ma direi che questo non lo considero uno scatto definitivo. Sicuramente tornerò in futuro a fotografare questa stessa scena. Sperando ci sia la nebbia. A questo punto devo guardare nelle previsioni che sia tutto il mondo completamente ricoperto di nebbia. E al che forse riuscirò a trovare la nebbia anche qui. Quindi mi sto rendendo conto per tutte le volte che ho visitato questa foresta. Ogni volta mi sorprende, ogni volta trovo delle cose diverse. Ma credo che sia in parte alla mia esperienza che cambia. Al mio modo di vedere le cose, di sapere che cosa cercare. Ed effettivamente in queste zone ci sono già passato ma molte cose non le avevo notate. Sono sicuro che col tempo, con gli anni, ho affinato il mio sesto senso per trovare composizioni e scene interessanti. Ma soprattutto possono anche cambiare i gusti. Probabilmente una scena del genere qualche anno fa non l'avrei neanche cercata. O forse non sapevo neanche come fotografarla. Col tempo i gusti cambiano, le tecniche migliorano e si inizia a capire esattamente che cosa piace fotografare. Ed è per questo che è molto importante visitare un luogo più e più volte. Soprattutto col cambio delle stagioni. Perché le cose cambiano tanto, cambiamo tanto anche noi. Scusate il pippone, adesso vi lascio alle due fotografie. Sous-titrage Société Radio-Canada L'ultimo scatto alla fine non l'ho ripreso perché non ce n'era bisogno. In realtà non c'è stato nessun reale ultimo scatto. Era solo una zona che dovevo ancora ben valutare ed effettivamente con le condizioni che ci sono adesso non era gestibile abbastanza bene. C'era una grotta un po' particolare, una specie di grotta, una semi grotta in realtà. Anche se in questa zona ce ne sono parecchie perché chiaramente con tutte le rocce cadute si possono creare delle grotte dalle più piccole alle più grandi. E quella lì era interessante perché... Ah sì dai vi faccio vedere la foto, una foto di prova che ho fatto almeno per capire di cosa sto parlando. Era piuttosto interessante. Infatti le rocce chiaramente prendono delle forme molto particolari. Sembra quasi di essere in un altro mondo quando si creano delle forme così peculiari. Bene direi che questa giornata esplorativa nella speranza della nebbia, che chiaramente non c'è stata, è andata piuttosto bene. Sono tornato in un luogo che adoro e adoro esplorare, adoro perdermi. Sono anche un po' lontano dai sentieri, devo capire bene come sono girato. No, si sentono le voci dei gruppi quindi sarà facile trovare il sentiero. È stata un'uscita interessante, completamente diversa da quello che mi aspettavo. Ho trovato delle composizioni valide, alcune ve le ho fatte vedere, altre me le sono segnate solamente per una prossima volta. Come vi dicevo prima, è importante tornare nei luoghi che ci piacciono, che ci attirano. Non soltanto per rivedere gli stessi luoghi, ma per rivederli anche con degli occhi diversi. Può sembrare banale, ma col passare del tempo e la crescita dell'esperienza cambiano parecchio anche i nostri gusti, come vi dicevo prima. E cambia anche il nostro modo di osservare lo stesso luogo. Si possono scoprire delle fotografie nello stesso posto, nella stessa zona dove se ne è fatta un'altra in passato. Con uno sguardo diverso si può trovare una composizione completamente differente. E siamo arrivati alla conclusione anche di questo video. Ora metto via e mi incammino e voi, mi raccomando, esplorate, esplorate. Ciao!